Si chiama Fortuna Instabile Quasi Possibile, la mostra allestita all'interno della rocca malatestiana di Fano. L'evento vede l'esposizione di diverse opere realizzate da sei autori italiani e internazionali. Tre pittori e tre fotografi, i tre pittori sono Oscar Contreras Royas, Sophie Western dei Jing e Dong, quindi da tre mondi totalmente diversi, Svezia, Cina e Messico. Le tre fotografi sono Rachele Maestrello, Silvia Vigili e Lidia Bianchi. Tre pittori e tre fotografi cosa hanno fatto? Hanno filtrato con i loro immaginari, con il loro mondo, con la loro esperienza, con la loro intimità, tutte quelle che sono le peculiarità e l'identità del territorio marchigiano. Le opere esposte all'interno delle cellette della rocca saranno visibili ad ingresso gratuito dal martedì alla domenica dalle 18.30 alle ore 23. Dal 5 al 18 agosto, alla fine della mostra a Fano, ci sposteremo a Pergola, a Casa Sponge, un'altra realtà di residenza d'arte contemporanea, ospiti di Giovanni Gaggia e a ottobre dal 7 al 17 saremo a Milano nella sede della Casa d'Aster Correale Italì in Corso Venezia 22.